Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovo episodio dopo, tipo un mese, di Mindtest Mod Spotlight E scusatemi ma, sta sessione di registramento, registrazione, ecco, sono raffreddato, quindi abbiate pazienza Ma, ecco, adesso già mi soffio il naso Dovrete sopportarmi un po' con questa voce catafratta! Oggi ci troviamo con la mod plastic box, che tra l'altro ho aggiunto anche nel mio mondo della serie Mindtest Ita Di cui, se per caso non seguite la serie, andatela a seguire subito! Cos'è che volevo dire? E' un modo, diciamo, è nato dal modo di utilizzare della plastica Se seguite la mia partita, diciamo, su Mindtest Ita, la mia serie su Mindtest Ita Saprete di sicuro che c'è... Ho fatto una farm di alberi automatica e si genera un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di plastica Perché utilizzando le foglie, in particolare... Sei, no? Credo di averne presa anche di più, sì, infatti... Ah no, una sola me ne dà Che stupido Vabbè, devo prendere così Comunque, se mettete le foglie così, vi dà della plastica Che poi potete cuocere e utilizzare per gli utilizzi più vari Questo è, diciamo, della Home Decor Che serve, per esempio, per la Technic Serve per la Pipeworks Quindi per un sacco di mod Technic, diciamo Solo che avendo una farm di alberi O comunque creando parecchia plastica Ad un certo punto non si sa più cosa farsene Io, infatti, se avete seguito il mio mondo Ho modificato la moda, diciamo, per fare della plastica compressa Della plastica super compressa Iper mega compressa, no? In modo da storare un pochettino più di plastica Perché avevo delle ceste Su ceste, su ceste, su ceste Enormi, piene di plastica Questo qua nasce, appunto, da quel problema E quindi il nostro carissimo amico Di cui, tra l'altro, mi sono dimenticato come si chiama Si chiama Cipi Cipi Scritto C-A-P Ma forse l'avrò già scritto sul titolo E quindi GG Ha creato questa mod Plastic Box Che adesso è la versione 2.1 Quella che sto recensendo Che aggiunge Quello che avrete già visto Dei cubi di plastica Belli Cioè nel senso Yeah, ci puoi fare un sacco di strutture Tipo, no? Puoi fare Che ne so io Un Una gallina Questa è una gallina, ecco Non lo vedete È palesemente una gallina Cioè Questa è la testa Questo è il Il corno E questa qua È la coda con il pungiglione Questo è tipo il pungiglione Facciamoglielo più lungo il pungiglione Così si capisce meglio che è una gallina Ecco Questa è perfettamente una gallina Una gallina Nera Ma poi ci sono anche le galline bianche Eccetera, eccetera No, comunque A parte degli scherzi È compatibile con Tutti i colori Diciamo Della moda di Vanessa E di Unified Dice Ma credo che i colori ormai Stavano su Ma in test base, no? Per creare Un Plain Plastic Box Che è diciamo Il punto di partenza Sì, io non l'ho fatto bianco Tecnico che del bianco Sarebbe questo Quello sarebbe Quello base, ecco Non colorato Si può Cuocendo la plastica Otterremo questo Plastic sheet Diciamo Dei fogli di plastica E non Escrementi di plastica Sì, lo so Stavate pensando a quel Ma malandrini Vi conosco Vi conosco Plastic sheet Con due E Mettendoli così Come per fare una ceste O una fornace Otterremo Quattro plain plastic box Che appunto Sono quelli Che avete visto Posizionati Un attimo Per fare la nostra Bellissima gallina Da questo Poi può essere Questo può essere colorato Per esempio Se voi mettete il rosso Verrà un Rosso Diciamo Se mettete il violetto Verrà violetto Se mettete il rosa Verrà Rosso Ok Forse supporta solo Quelli Dovrebbe venire Rosso scusa Forse Forse devi farlo rosso E poi usare il bianco No Non ho mai capito Granca dei colori Devo ancora applicarmi Ci bene Tra l'altro Non lo so Voglio fare una prova Per vedere Se si possono utilizzare Appunto più colori Se io metto il rosso E poi ci metto Del violetto Cambia qualcosa No Non mi cambia più colore Una volta rosso È andato per sempre Addio Muori E niente Quindi con tantissimi colori Si possono fare Delle pixel art No Magari adesso Non Sexissime Perché A differenza Della lana Qua Ha dei contorni Molto Netti Ecco Diciamo Potete vedere Chiaramente Il contorno Mentre la lana Mi pare Che sia Molto Più sfumata La troviamo Qua E Non buttarla Per terra Incivile La plastica Sì È La lana È molto Più sfumata Ma è anche Molto più Difficile Da ottenere Io ho Una farm Automatica Di cotone Ma È un Gran Bel lavoro Fare Ottenere Un bel po' Di Ce l'ho Con la plastica La lana La lana Ecco Quindi Questo Ha Una texture Diciamo Molto Più Omogenea Perché Da lontano Appunto Anche Non si Notano Sembra Un'unica Cosa Ecco Non sembrano Vari blocchi Mentre Invece Questi qua Dei blocchi Di plastica Sono Molto Staccati E mi ricordano Molto I blocchi Di lingotti I blocchi Di lingotto Hanno queste texture Molto Squadrate Diciamo Con i contorni Ben definiti Proprio per definire Un blocco Dall'altro Quindi Sono meno adatti Diciamo Per le pixel art Però ci si possono fare Comunque Degli edifici carini Diciamo Delle pareti Delle mura Qualcosa di Interessante E appunto Servono per Utilizzare un po' di plastica La cosa che Io mi aspettavo Da questo modo Che invece In realtà Non fa Noi Facciamo che fare Time No 600 Ma 6000 E Una cosa che appunto Non fa E' quello Per cui Io mi sono trovato A modificare La home decor Nel senso Che una volta Che tu hai creato Il plain plastic Blocks Non puoi tornare Indietro alla plastica Non puoi riutilizzarla Con la plastica Con la plastica E' là E' fine Fine per sempre Cioè Proprio Non la Riutilizzerai Più per niente Quello che volevo vedere Invece E' se per caso Ci permette Di Cuocere La plastica Di base I fogli Cotti Non lo so I plastic sheet Non lo so Non ho controllato La plastica Di base La raw plastic Ci permette Di cuocere E quindi E' comoda Questi qua Non lo so Quindi vabbè Adesso vediamo I fogli Se cuociono No No Non sono infiammabili E quindi Secondo me Lo saranno Ancora meno Questi Ehi Ma non me l'ha neanche preso No Non me lo prende Beh scusi Questi se li rimetto Me li prende Sì me li prende Ma non Non dà fuoco Ecco Mentre invece Se io prendo La Raw plastic Che è Qua Raw plastic Unprocessed Plastic Base L'hanno chiamata Adesso Questa dovrebbe Bruciare Nel mio mondo Vi giuro Che bruciava Forse lo aggiunge La technique Non lo so Forse Nella fornace Normale Non lo so Quindi non posso Dirvi se effettivamente Con la technique Sono Utilizzabili Come combustibili Con Le Vanilla Di sicuro No Cioè la moda Di per sé Non le fa Combustibili Cioè non le rende Combustibile Ehm Boh Detto questo Mi sembra che sia Abbastanza Per questo giro E quindi farò Un'ippopotamo rosa Che appunto Sarà il simbolo Della nostra serie Nei secoli a venire Si sembra tanto Dei blocchi di diamante Uno potrebbe tipo Fingere Ehi Visto quanti blocchi Di diamante Che c'ho Però Devo dire che Questa texture qua Mi piace un sacco Ehm Infatti volevo dirlo Me ne sono dimenticato Perché Ehm Come potete vedere C'è questo Questa sorta di brillo cichio Che ha messo qua No? Come se fosse Ehm Come se riflettesse il sole Ecco Che dà una bella Una bella idea Nel senso potrebbe Far finta di essere Una vetrata Una vetrata opaca Ne sono consapevole Ehm Però Non è male Cioè nel senso A livello decorativo GG Utilità Pari a zero Però A livello decorativo GG Perché per esempio Invece la lana Credo che anche quella colorata Possa cuocere delle cose Adesso vedi che neanche la lana cuoce Non me la prende nemmeno? Ah! Non me la prende nemmeno Ma che Boh Ma funziona sta fornace Posso prendere Dell'altro legno Per vedere Che se effettivamente Funziona la fornace Questa qua l'avevo messa Tempo a dietro Non funziona Non funziona la fornace Proprio Beh Me l'ha fatta togliere Ah Item not cookable Ah già Perché non posso cuocere questo Non è che c'è la carbonella qua Cosa posso cuocere? Posso cuocere Beh Del ferro Però no aspetta Togliamo questo Proviamo con la plastica Con il cubo di plastica Vedere se No no L'ho preso proprio Non me lo prende proprio No anche quello Non me lo prendeva Anche prima non me lo prendeva Ok Questi fogli invece Sì I fogli sì I fogli sì E quindi voi Ne abbiamo perso Anche da quel punto di vista Perché noi abbiamo Cotto la plastica Per avere Dei fogli E Quelli sono combustibili Ma il blocco no E quindi No epico Io non Me l'ero perso L'animazione della fornace Quanto tempo è che Non uso una fornace vanilla? Ma delle ere Guardate che sexy Boh Dopo questo Credo che siamo finiti Abbastanza No si è spenta Ecco E' un carattolo No No E Noi ci vediamo Con il prossimo video Vi invito a seguire appunto La mia serie di Ma in testita Non so se la prossima settimana Farò un mod spotlight Credo di no In realtà Perché non ci sono tantissime Mod nuove In questo periodo Da recensire Le mod enormi Diciamo che non vado a recensire Perché Il 90% Ce le ho sul Sul mio mondo Quindi le vedete Giorno per giorno Quindi se vi interessa Una tecnica La pipe works La home decor La more horse La mese con La Vatte la pesca La Plant life More trees Boh More blocks Ci vediamo ragazzi Buona giornata Vi invito a lasciare un mi piace Se avete gradito l'episodio Iscrivervi per restare sempre aggiornati Ci vediamo col prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti